A più il sapore di una faida interna tra vinti e vincitori che di un vero e proprio scontro ideologico della politica al sapor di panettone di questo periodo. Una giostra fatta di picche e ripicche è andata in scena nel lasso di tempo di 48 ore, iniziata tutta con il primo consiglio comunale di mercoledì sera, quando tutto è saltato per la mancanza del numero legale, viste le quattro defezioni di consiglieri di maggioranza, una assente giustificata e tre per sopraggiunti impedimenti e dove la minoranza non ha attirato nessun salvagente, presentandosi in emicicla all'appello e facendo saltare il banco. Ma cosa comprensibile dal momento che all'ordine del giorno c'erano votazioni per argomenti in cui la minoranza era in forte disaccordo, vedi i 400 nuovi parcheggi a pagamento. E così ieri, dopo il pacco, il contropacco. Secondo consiglio e maggioranza compatta sui banchi alle 18 e 30 spaccate e anziché aspettare l'agio di cortesia delle 19, appello, numero legale corretto verificato, partenza pronti via e nel giro di mezz'ora 5 delibere approvate senza la minoranza sui banchi. Un modus operandi, sì nel rispetto letterale delle norme, ma che per nulla è stato gradito dai gabbati e quindi oggi sono volati gli stracci, come si suol dire, tra opposizioni e sindaco. Bisogna spiegare alla gente però che anche se la convocazione viene fatta sulla carta per le 18 e 30, da sempre, da sempre, da che esiste questo consiglio, ci si incontra alle 19 e alle 19 si fa l'appello e da lì si parte con i lavori. Quindi noi siamo arrivati come da consuetudine alle 19, che alle 19 meno 5, che alle 19 meno 10, intendo noi, noi dell'opposizione. Bene, quando siamo arrivati li abbiamo trovati già seduti, si la sono suonata e cantata, in completa assenza delle opposizioni. Ora, bisogna chiarire che le opposizioni non è che stanno lì soltanto per rovinare il gioco, ma vanno ad assumere un ruolo fondamentale di rappresentanza civica, soprattutto delle istanze di chi è in contrapposizione con determinate delibere, mi si permetta, scellerate. Con questo atto di forza si è impedito di ascoltare la voce dei commercianti, quindi noi a quel punto era inutile che fossimo presenti, perché la nostra voce non vuole essere ascoltata. Qui c'è qualcuno che si nasconde dietro la bandiera della democrazia e poi nella realtà dei fatti compie gesti e compie azioni completamente illiberali e antidemocratiche e quindi noi non siamo d'accordo. La Presidenza del Consiglio assieme alla Vicepresidenza dovrebbe garantire la terzietà, cioè dovrebbe garantire di essere super partes in modo da permettere a tutti i consiglieri di effettuare il loro lavoro. In questo momento l'attacco e l'accusa che vogliamo rivolgere è assolutamente contro la Presidente Cecchetelli perché non ha saputo garantire il suo ruolo sopra le parti. Per questo motivo noi chiediamo le sue dimissioni perché in questo momento lei è stata assolutamente faziosa e ha difeso esclusivamente gli interessi del suo partito. Stiamo preparando la documentazione e abbiamo preso appuntamento dal Prefetto, quindi a breve ne parleremo anche con il Prefetto.